in sintesi mercoledì adams su netflix perspicace sarcastica ironica intransigente patologica gotica senza ombra di dubbio a sociale e sociopatica e naturalmente un po inquietante non mancano colpi di scena la famiglia adams al completo mercoledì adams indaga su una serie di singolari omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla nevermore academy ovvero la scuola di magia di harry potter ma piena di righetti e mostri incluso anche il significato di mostrum latino ovvero eccezionale